Buon pomeriggio a tutte quante, sono la dottoressa Favata, sono l'amministratore del polispecialistico Chirone. Abbiamo voluto dedicare queste giornate al progetto Bella che ci ha sostenuto grazie alla dottoressa Di Stefano e intendiamo Bella la donna in tutte le sue sfaccettature. Abbiamo voluto dare il nostro supporto sanitario a tutte le donne che spesso per veri motivi si trascurano e non danno peso all'importanza della prevenzione. Noi ci occupiamo di fare ecografie mammarie, abbiamo un bravo senologo che è il dottore Sanfilippo, abbiamo una bella diagnostica che è a supporto della prevenzione donna facendo delle mammografie e le ecografie mammarie a cura del dottore Verde e del dottore Luigi Adamo. All'interno del polispecialistico esiste anche dell'altro, donna a 360 gradi proprio per tutte le branche che il polispecialistico rappresenta. Grazie a tutti.